ciao a tutti ragazzi e buona domenica e benvenuti sullele king tv allora ragazzuoli questa domenica ci sarà un saluto generale vi saluto tutti quanti quelli che me l'hanno chiesto ma anche sono riuscito a fare in tempo l'elenco di tutti voi che mi avete chiesto di essere salutati siete veramente tantissimi quindi questa settimana i saluti personali salteranno quindi ragazzi prenotatevi qui sotto nei commenti come fate al solito per essere salutati la prossima domenica la prossima domenica sicuramente ci saranno invece questa domenica purtroppo per questioni di tempistica non ho fatto tempo a farmi l'elenco di tutti voi che mi avete chiesto di essere salutati quindi sarete salutati sicuramente la prossima settimana detto questo ragazzi seguitemi anche sugli altri social oltre che su youtube quindi iscriviti al canale se non siete iscritti attivate la campanella e lasciate un bel like come al solito e ragazzi seguitemi anche su tiktok instagram e su twitch basta cercare lele king tv mi trovate su tutti questi social allora quest'oggi apriamo questa confezione speciale che già abbiamo aperto domenica scorsa con sei bustine più un omaggio l'altra volta non so se vi ricordate abbiamo fatto anche il cielo mi manca con le figurine che abbiamo trovato all'interno di questa di questa confezione e non è andata benissimo non è andata benissimo perché pare abbiamo messo tipo 5 o 6 figurine adesso noi intanto ci apriamo la confezione purtroppo per aprirla bisogna forza romperla perché altrimenti non esce ci apriamo la confezione proviamo a fare questa top 11 con le figurine che troviamo e poi ragazzuoli vedremo domani nel cielo mi manca come andata allora prima cosa troviamo nella bustina omaggio poli e iniziamo bene perché poli mi pare che è uno dei calciatori che mi manca del bologna e lo mettiamo qui a centrocampo così proviamo a fare questa benedetta top 11 poi troviamo marrone cuomo e crociata del crotone bruno alves del parma giocatore d'esperienza giocato anche nel barcellona poi abbiamo orobica bergamo del calcio femminile magnanelli del sassuolo e cerri del cagliari eccolo qua attaccante caiseto giocatore della lazio attaccante giocatore dell'equador poi abbiamo zaccagni dell'ella severona centrocampista lianco difensore del torino brasiliano non è vinto lo scudetto del cosenza della gremonese chabot difensore della samp e questa ce l'ho e gli scudetti di serie c tra cui reggiana rimini san benettese e sud sud tirol vediamo la terza bustina vediamo cosa esce fuori esce fuori l'allenatore della fiorentina che non lo è più vincenzo montella poi abbiamo tiago motta anche lui nel più allenatore del genoa abbiamo terracciano come portiere della fiorentina almeno un portiere abbiamo trovato e quindi a top 11 si farà anzi anzi ultimamente sto trovando tutti i portieri collei difensore della samp non è vinto buoni fasi difensore del torino oh lorenzo insigne ragazzi top performance e questa forse potrebbe essere la migliore figurina di questo spacchettamento che dite mi raccomando commentate anche la vostra figurina preferita tra quelle che vedete poi guangesus difensore della roma vitale difensore dell'ellas nesta e caserta allenatore del frosinone e della juve stabbia belotti e insigne per quanto riguarda la nazionale italiana quella che doveva giocare euro 2020 che è stato rinviato nel 2021 belotti con insigne che sicuramente ci saranno anche il prossimo anno con la maglia azzurra a giocarsi questo europeo rinviato per motivi che sapete tutti legati al coronavirus non è vinto dermacu difensore del parma di origini albanese la mezza formazione dell'udinese che ce l'avrò 3000 volte ho il papu comez il papu comez per quanto riguarda l'atalanta attaccante argentino che c'è sta qua io qua sento ragazzi che c'è qualcosa di buono vediamo ancora insigne insigne l'abbiamo trovato in due versioni ragazzi in due versioni troviamo insigne top performance e insigne diciamo classico e nella versione classica poi troviamo meite centrocampista del torino del toro duarte difensore brasiliano del milan non hai vinto tre giocatori del frosinone tra cui bardi jacobucci e zampano l'autobus dell'udinese del trapani scogliamigno caos e fornasier dai ragazzuoli taglie che c'è sta qua salernitana e troviamo salernitana lombardi ciccerelli cerci cerci ex giocatore di roma atalanta torino insomma se ne è girate di squadre adesso è alla salernitana poi abbiamo rossettini difensore del lecce vere tu centrocampista della roma se non sbaglio vere tu mi manca non hai vinto buravia centrocampista del sassuolo del trapani troviamo carnesecchi dini e pigliaruolo e poi troviamo in attacco aie del brescia giocatore francese ultima bustina di questo spacchettamento poi andiamo a fare la top 11 ben sarra difensore del lecce brignoli provvedel e maglietta brignoli ragazzi ricordate il gol che fece al milan agli ultimi minuti il portiere tulli evacuo e pettinari non hai vinto bene troviamo siriku in porta è sicuramente meglio di terracciano poi troviamo l'autobus della juventus la parte posteriore e crazy attaccante del bologna allora in porta terracciano e siriku sicuramente mettiamo siriku ma sicuro sicuro al 100% in difesa abbiamo tanti difensori ragazzi quindi facciamo un 4 una difesa a 4 bruno alves sicuramente poi metterei due arte bonifasi e lianco centrocampo facciamo centrocampo a 3 assoluto facciamo 4-3-3 come al solito vere tu mete e poli questa è la mia formazione in attacco mettiamo sicuramente insigne top performance gomez e caiseto ragazzi direi che alla fine è uscita una buona top 11 non eccezionale però una buona top 11 non ci possiamo lamentare quindi ragazzi ricordatevi ricordatevi di prenotarvi per la prossima settimana per i saluti perché questa settimana purtroppo è andata così la prossima settimana cercheremo di salutare tutti quelli che non abbiamo salutato quindi prenotatevi sotto nei commenti per essere salutati la prossima settimana non perdetevi il video di domani in cui ci sarà la verifica se in queste confezioni speciali con 6 bustine più una omaggio ci sono molti doppioni o no se l'altra volta è stato un caso trovare tutti quei doppioni o se veramente alla fine la diciamo diversità delle figurine non è così tanta comunque non mi pare di aver trovato le figurine che avevo trovato l'altra volta sicuramente molti doppioni ma con la collezione stiamo arrivando ad un punto che è normale trovare tanti doppioni quindi valuteremo 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 nel prossimo ce l'ho mi manca che non dovete assolutamente perdere ragazzi io vi saluto ci vediamo nel prossimo video vi saluto buona domenica a tutti ciao